Siamo a metà e in vantaggio. Abbiamo perso l'obiettivo Echo. Abbiamo conquistato l'obiettivo Delta. Siamo a metà. Siamo a metà. Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. Abbiamo perso l'obiettivo Delta. Abbiamo perso l'obiettivo Allah. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Siamo perdendo. 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 grazie Grazie a tutti. No l'obiettivo abbiamo conquistato l'obiettivo delta abbiamo perso l'obiettivo bravo Sì, non è vero, non è vero. Grazie. 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 Yeah, man, erste helfe. Grazie. 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 Erste helfe für dich. Erste helfe, greif zu. Ich fliege dich zusammen. Hier, erste helfe. Stiamo perdendo l'obiettivo Echo. Braucht jemand erste helfe? Stopp sie auf die Beine. Sì No, 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 no L'obiettivo Abbiamo perso l'obiettivo Abbiamo perso l'obiettivo Delta. 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 Grazie. Grazie. Une trousse de secours. Grazie. Démunition. Une trousse de secours, pour toi ! Une trousse de secours, pour toi ! Une trousse de secours, pour toi ! Qu'est-ce qu'ils sont morts ? Oui ! Quelqu'un peut nous donner des missions ? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti